Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy XVI per continuare la nostra caccia. Quindi, let's go! Nektar, vai, dimmi chi è il prossimo. Su, non perdiamo troppo tempo. Allora, esaminiamo la caccia. Ah, ok, lui so già dove si trova, perché l'ho incontrato per sbaglio in realtà. Stavo facendo una side quest e praticamente l'ho beccato per sbaglio. Si chiama Nove Pugnali e so benissimo dove si trova. I mercanti dalmechiani sono i soliti di dire una preghiera per gli incauti viaggatori che da Dalimil si avventurano verso Zanna di Drago, poiché da quelle parti si nasconde uno spietato brigante più interessato a vedere scorrere il sangue della sua preda che a depredarne la carovana. Se vogliamo che la strada torni a essere sicura, allora almeno un viaggiatore dovrà trovare il coraggio di fermarsi a combattere. E noi siamo qui. Tra l'altro di livello A, quindi sarà bello tosto probabilmente. E questa è una cosa che a me sinceramente fa piacere. Bisogna solamente trasportarsi a Fauci, perché lui si trova esattamente sul sentiero che... Eccolo, già si vede là sotto in fondo. Si trova esattamente su questo sentiero. Quindi basta andare sempre dritto e praticamente ve lo troverete di faccia. Quindi teletrasportatevi a Fauci e praticamente si trova qui. Vedete? Praticamente ce l'abbiamo lì di faccia. Non possiamo sbagliare. Eccolo qua. Guardalo quanto è fiero. Nove pugnali. Eccoci qua. Guardalo, tutto bello, dorato. Ha il moveset praticamente... Ha il moveset degli assassini dell'impero, quindi non è difficilissimo come moveset. Però vedete i danni sono un po' più particolari. Eccolo qui. Chi ti capace. Eccolo qui. Ah ma ha preso Oh porca miseria Perché giustamente non gli ho fatto il parry Aia Eh lo sapevo Che mi prendeva col veleno Mannaglia Ok Ritentiamo Eccoci qua Rematch Eh Ha schivato la tappa Infame Porca miseria Non l'ho visto proprio Diciamo che il tornado è un po' sconveniente A causa del fatto che non si vede praticamente Che aschivata Perché non è neanche difficile il moveset Ripeto, ho un moveset a parte Qualche attacco nuovo Ma è lo stesso moveset E questo mi prende perché mi salta sopra infame Ok Ho schivato È colpito Ormai è finito Olè E qui Lo mandiamo a casa Bella Ovviamente queste cacce sono più belle e più interessanti Perché i nemici sono più alti di livello Quindi mi fanno molto più danno E io mi posso divertire un po' di più Eccolo qua Beh Dal lato è anche figo il fatto che i cadaveri non spariscano E rimangano qui Che si vedano per un po' di tempo Ovviamente ricaricando la mappa poi si leva Però è bello che sconfiggere il nemico Ti dia la possibilità anche magari di fare uno screenshot Comunque Questo era il nostro ricercato di oggi E noi come sempre ci becchiamo alla prossima Bye bye